Martina Denti Pompiani, 31 anni, candidata nella lista città giardino per bianchi sindaco. Ha parlato di Varese, dei motivi per cui è candidata e adesso ce li racconta brevemente anche a noi. I punti toccati da Matteo sono tantissimi e mi colpiscono da vicino. Tra questi c'è un punto fondamentale ovvero di rendere Varese una città più centrale, meglio collegata. Io sono di Luino, ho vissuto tanti anni a Milano dove continuo a lavorare e ora invece vivo qui a Varese, una città dove in parte ho studiato, dove ora ho scelto di costruire la mia famiglia pur continuando a lavorare a Milano. Il tema dei collegamenti con le città limitrofi, con i comuni limitrofi, per esempio Milano in primis, è secondo me un tema importante che penalizza moltissimo la città di Varese che invece potrebbe essere davvero un punto di riferimento per una città come Milano che attrae ovviamente tante persone come me per lavoro.